Ci ritroviamo dopo un anno a parlare ancora di cuore con le nuove terapie innovative che servono a salvare e a migliorare la qualità di vita dei pazienti ma non solo di questo, parleremo di tutta una serie di argomenti molto attuali, quali potrebbe essere la cardio-oncologia, le miocarditi e la cardiologia riabilitativa con naturalmente la presenza di illustri colleghi che provengono da tutto il territorio nazionale che con le loro competenze gratificano e rendono importante questo evento. Chi può partecipare all'evento? Per quanto riguarda i professionisti che possono accedere ai crediti, oltre che i medici di medicina generale, anche i cardiologi, i dietisti, i fisioterapisti, i psicologi, i infermieri e anche i tecnici della fisiopatologia e della riperfusione che sono per noi oggi molto importanti e sono presenti all'interno delle operative. Naturalmente per tutti i pazienti o i cari giver che sono interessati a conoscere e assevere un po' meglio alcune problematiche le porte sono aperte. Quindi Mazzara si conferma ancora una volta città che mette al centro dei suoi interessi il benessere del cittadino e quindi grande attenzione a problematiche di questo tipo. Assolutamente sì, due cose contraddistinguono il nostro evento, quello di mettere sul nostro logo la parola avamposto del Mediterraneo perché riteniamo che sia assolutamente, dal punto di vista geografico, siamo in una posizione sicuramente strategica per poter essere un avamposto del Mediterraneo e mettere a riparo i cuori di tutta quella gente che attraversa quel tratto che idealmente sono rappresentati dai due fari Capogranito e Lettorretta e anche il titolo del congresso che parla di cardiologia Mazzara 3.0 in termini di una cardiologia futuristica con altri impegni e altri obiettivi da raggiungere su cui noi stiamo lavorando.